Musica Buongiorno con Mattino 6, il nostro appuntamento quotidiano con la Rassegna Stampa, martedì 10 dicembre. Scopriamo subito insieme le notizie di oggi sui giornali, a partire dall'Abruzzo, sul centro, la prima pagina di Pescara, Rigopiano, ecco le carte dei veleni. In un dossier l'ex capo della mobile Muriana accusa i carabinieri forestali. Nella fotonotizia vediamo un bellissimo cane, proprietari dei cani, ecco gli sceriffi contro chi sporca. No alla nomina Casogatti, la Lega impone la verifica a Marsilio e intanto la questione delle autostrade a 14 e caos per i sequestri, i pedaggi vanno sospesi. La cronaca, salto alla sala giochi con il martello, Francavilla, quattro ladri fanno irruzione nella notte e fuggono con 3.000 euro. A Pescara la Lega Navale si rinnova, avrà uffici e palestra, per quanto riguarda invece gli allegamenti a Montesilvano è emergenza. Nel taglio alto usciamo dai confini regionali, Mosca contesteremo, doping la Russia esclusa per quattro anni dalle Olimpiadi. Andiamo avanti, sempre sul centro, sulla prima pagina di Chieti, Lanciano e Vasto, concorso dell'ASL si fa a Pesaro. Chieti in 7.800 per 30 posti da infermieri, l'azienda affitta il Palasport. Nella fotonotizia la senatrice Segre diventa cittadina di Guardia Grele, un'altra cittadinanza onoraria per la sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz. Chieti spruzza lo spray peperoncino, a Olunno neguai, a Vasto manca internet e i negozianti ora chiedono i danni. A Lanciano l'albero iceberg, la polemica, meglio spostarlo, l'attrazione natalizia inaugurata a Lanciano. Andiamo avanti sulla prima pagina di Teramo, ospedale le offerte da tre privati, l'ASL, dobbiamo accelerare la realizzazione della nuova struttura. Nella fotonotizia ancora la 14, casello di Roseto chiuso e il sindaco ora chiede aiuto. A Martinsicuro, pestato a sangue, scatta il tentato omicidio e a Teramo prelevano soldi con il bancomat di un morto. Adesso la polizia sta indagando sui movimenti. Giulianova ha messo in vendita la storica edicola e cartolibreria di Giulianova. Andiamo ora sulla prima pagina di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Il codice fiscale per gettare i rifiuti all'Aquila, cassonette automatizzati in due zone. Sperimentazione al via. Nella fotonotizia il pontefice, il papa ammira il presepe che arriva dalla Marsica. Realizzato dall'associazione Sorprendentemente Donne. All'Aquila, dirigente licenziato, Arap deve risarcire. Sulmona, 300 clienti nella casa cinese del sesso. Comunali, corsa a sindaco nel centrodestra. Ad Avezzano, dove presto si voterà per le comunali. Andiamo sulla prima pagina che il messaggero dedica all'Abruzzo. Anche qui in apertura in primo piano la questione del processo di Rigopiano. Scontro al vertice. Presunto depistaggio, il dipartimento di Polizia di Stato e il comando generale dell'arma chiedono relazioni. L'avvocato dei forestali prepara la denuncia per calugna contro l'ex capo della mobile Muriana. Schianto con due morti, volevo schivare un animale selvatico. È successo a Sulmona. Intanto la proposta della Lega, anziani truffati per la Lega. La Lega ha chiesto un milione di risarcimento. Caos in autostrada, dovete ridurre il costo dei pedaggi. Guardrail sequestrati, lavori ingorghi, l'appello della CNA per il traffico sulla A14. Nella fotonotizia le immagini delle videocamere di sorveglianza che hanno incastrato delle ragazze nel capoluogo adriatico in fuga la baby ladra. Feste, scatta l'allarme, furti nelle case come in ogni periodo natalizio. E andiamo ora sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Teatro romano al buio e al gelo. Il titolo in primo piano, il voto per l'approvazione del progetto esecutivo, mai visto, fissato il 23 dicembre. All'aperto, intanto in città a Teramo nasce il dibattito, le telecamere negli asili nido non tutelano i bambini. Martinsicuro, 270 mila euro di danni dalle ultime mareggiate, inviato il resoconto, mentre ricordiamo è stato riconosciuto lo stato d'emergenza all'Abruzzo. Giulianova a Piazza Dalmazia, a Arboretti, no al forum, a cose ormai fatte. A Roseto degli Abruzzi, come abbiamo già visto, casello a 14, semi chiuso dai sequestri. Il sindaco ora convoca le istituzioni. Nel taglio alto, iniziata la demolizione, la ricostruzione del comune di Rorricella Sicura, e l'Ectus esce da Teramo e diventa evento regionale. Ma ora usciamo dai confini dell'Abruzzo, andiamo sui quotidiani nazionali, sul Corriere della Sera, dove in primo piano c'è la questione politica. Governo serve il rilancio. Conte non starò appeso. Ecco l'agenda per il 2023. Il PD chiede la verifica. Il piano del Premier, taglio delle tasse, la legge elettorale, guardo al sistema tedesco. Mentre il capo dello Stato, Mattarella, si è espresso sulla questione delle evasioni, dicendo che evade, sfrutta gli altri. A Londra, la corsa di Johnson e lo spettro dell'instabilità, si avvicinano le elezioni inglesi. Nella fotonotizia, la Nuova Zelanda, l'eruzione durante la gita alla White Island, il vulcano esplode ed è strage di turisti. Sempre dagli esteri, lo scandalo doping, Russia esclusa dalle Olimpiadi per quattro anni. Non era successa una polemica simile anche per le scorse Olimpiadi. Andiamo avanti sulla Repubblica. Evasori, io vi accuso, citando Jacuzzi di Milzolà, l'anatema di Mattarella. Durissimo attacco del capo dello Stato, una cosa indecente, tolgono le risorse per aumentare gli stipendi e le pensioni. Ancora tensioni sulla manovra dal 2021, più accise sui carburanti, i presidenti delle Camere, troppo poco tempo per discuterla. Intanto Conte Zingaretti si ha il patto per il lavoro lanciato da Landini. La fotonotizia, le donne al potere in Europa e l'Italia resta degli uomini. Perché in Finlandia c'è un nuovo premier, si tratta di una donna di 34 anni, Sanna Marin, la più giovane capo di governo del mondo, la leader da Bruxelles a Francoforte, Roma sempre più un'eccezione. Nel taglio basso, Russia fuori per quattro anni, addio ai giochi, lo zar Putin cade sul doping. Ma anche lo sport, il Napoli c'è già gattuso in panchina con Ancelotti che potrebbe essere esonerato. Il Fatto Quotidiano, se scrivi di lei, la Casellati ti cerca a casa con l'immagine della presidente del Senato con questo fotomontaggio da Postino dice posta per te. Avvertimento ai nostri cronisti, svelano i suoi scandali, ricevono a domicilio una lettera del suo avvocato che minaccia cause civili. Nel taglio alto, verifica post manovra, Conte 2, la tregua giallorossa, gennaio cronoprogramma, legge intercettazioni, Bavaglio, Bonafede rinvia di altri sei mesi e il PD strilla. Andiamo avanti sul Fatto Quotidiano, Turbina e Russi, indagine degli USA su Camparini, leghista, non sono io, l'incriminato ha il suo stesso nome e cognome un'altra questione che riguarda appunto i legami tra la Lega e la Russia. Intanto rabbia a Parigi, pensioni, l'architetto della riforma lavora per le assicurazioni. Andiamo avanti sul giornale Follia, 400 mila euro per celebrare il PC, il Partito Comunista Italiano, soldi di Stato e compagni, l'accusa del giornale, Maxi Mancia per i 100 anni del Partito Comunista. Intanto salgono le accise sulla benzina. Leggiamo anche brogli e doping di Stato, Russia fuori dai giochi, sport ed economia, sanzioni al colosso di Putin. Intanto il retroscena del giornale, l'asse di Maio Salvini, tentazione antiurne, potrebbero appunto ritrovare delle alleanze, Lega e 5 Stelle. Ultima gretinata di Macron, si inventa l'ecocidio dell'ambiente, ancora in qualche modo l'attacco indiretto da parte del giornale Greta Thunberg, ma andiamo sul manifesto, Mattarella, evasione fiscale indecente, Fico e Casellati preoccupati per l'approvazione della manovra in due sole letture. E Conte, una roadmap fino al 2023, mentre si avvicina la verifica di gennaio. Nella fotonotizia, la questione russa, muscoli gonfiati, riecco la guerra fredda dello sport, nel giorno delicato, vertice di Parigi sul Donbass. La Russia è espulsa per casi di topping dalle Olimpiadi di Tokyo del 2020, dai mondiali di calcio in Qatar e dai giochi invernali di Pechino 2022. Mosca, isteria, antirussa, cronica, cronica, mentre torna il confronto mondiale tra est e ovest, Alberto Negri ci spiega come la questione russa non sia solamente sportiva, ma comunque abbia implicazioni geopolitiche. Oggi lo sciopero a Roma, lo Stato entrerà nei settori strategici per quanto riguarda la questione dell'Ilva. Giustizia, PD 5 Stelle, Elite Bis sulle intercettazioni, mentre in Gran Bretagna Johnson stacca Corbyn di 10 punti, Afghanistan Papers, 20 anni di bugie sulla guerra USA, perché secondo una inchiesta del Washington Post, gli Stati Uniti non avrebbero mai avuto il controllo del territorio né in Afghanistan né in Iraq. Il mattino, il quotidiano di Napoli, Conte chiede la verifica, ma è scontro sulla giustizia. Il premier, a gennaio ripartiamo, intercettazioni, tensione PD 5 Stelle, Mattarella, evasione indecente. Nella fotonotizia l'allenatore della squadra partenopea, Ancellotti, con la valigia, la vigilia del Genk, pensiamo a passare. Poi si vedrà Napoli e Carletto arrivati ai titoli di coda, in Pol Gattuso, normale essere in discussione, se non va è giusto chiudere, ha detto Ancelotti. rifiuti contro De Luca, indagini su insurgenia, gli aggressori, due giovani del centro sociale. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, andiamo sul messaggero, contratto a rate per gli statali, subito 200 milioni per il rinnovo e patto per trovare le risorse mancanti con il DEF di aprile, manovra, allarme tempi, mattarella, evasione fiscale indecente, salta il tetto alle detrazioni sanitarie. Il terremoto in Toscana, Mugello, raffica di scosse, paura e danni 300 sfollati, ancora nel taglio alto le notizie dagli esteri, l'una già la conosciamo, la sanzione di 4 anni, niente Olimpiadi mondiali per la Russia e la guerra high tech Pechino espelle la tecnologia degli Stati Uniti in ritorzione dopo il caso Huawei. Leggiamo anche i rosso-gialli provano a ricucire, Conte verifica gennaio e taglio IRPEF, ma il rinvio intercettazioni scatena il PD salva stati, domani risoluzioni in aula, MES, garanzie e grillini sui titoli di Stato e gentiloni, patto di stabilità da rivedere. Nella fotonotizia il neopremier finlandese a 34 anni guiderà un esecutivo quasi tutto al femminile Marin, la premier più giovane con due madri. I netturbini di Roma uno su tre è inabile, non raccoglie rifiuti, rapporto AMA, 1500 operatori su 4300 sono inidoni, l'amministratore delegato Zagis vanno riconvertiti. Andiamo avanti su Libero il quotidiano immigrati esentasse titola sparito il balzello sui pagamenti degli stranieri. Lo Stato si è scordato di applicare il prelievo dell'1,5% sulle miliardarie rimesse nei paesi d'origine da parte degli extracomunitari italiani invece costretti avversare ogni tributo con questo titolo un po' forbiante getta benzina sulla guerra tra poveri. L'Australia è come l'Italia condanna un innocente inchiesta di Sky scagiona il cardinale pedofilo Iran c'è aria di guerra civile a causa di stramaccioni il mister Senevai i tifosi assaltano il ministero e ancora la sinistra chiede 400 mila euro per celebrare il PC fermatela per favore l'appello disperato di Libero nel taglio basso 51 mila clochard rischiano di morire di gelo e meno male che dovevano abolire la povertà si avvicina l'inverno quest'anno in ritardo ma ritorna puntuale la problematica per i senza tetto già è morto un senza tetto a Milano qualche giorno fa il sole 24 ore del quotidiano economico finanziario riforme su antitrust e patto di stabilità via al cantiere Europa l'avvio del nuovo esecutivo segna un cambio di passo su due temi controversi Vestager è giunto il tempo di rivedere la definizione di mercato di riferimento Gentiloni le regole sui conti scritte nella fase della crisi vanno riviste con gradualità intanto vediamo nella fotonotizia la più giovane premier nel mondo la premier finlandese manovra plastic tax dimezzata salta la stretta sulle spese sanitarie crisi d'impresa doppio albo per i professionisti dei controlli ancora una notizia dal sole 24 ore botta e risposta tra poste e banche su servizi di pagamento e credito del Fante abbiamo la licenza Sabatini essenziale la normativa la verità il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro marchette di fine Giuseppi danno soldi persino al PC in manovra anche in mille proroghe emendamento per accollare agli italiani le cerimonie per l'anniversario del partito comunista che secondo l'Unione Europea è fuori legge come il fascismo ma la maggioranza facille se grappa una verifica da prima Repubblica alzano le accise sulla benzina e Conte tenta di convincere i grillini sul MES intanto Renziani minacciano Corrado Formigli e Renzi fa la vittima vediamo il giornalista nella fotonotizia che si lamenta appunto perché da profili riconducibili a Italia Viva sono stati rivelati dettagli sulla sua abitazione Guardia di Finanza e PM sbagliato archiviare Babbo Tiziano a proposito di Renzi le fiamme gialle dimostrano che era il padre dell'ex premier a gestire la CIL Post finita in bancarotta in bancarotta nel taglio basso il guru di Bibiano incastrato dal suo video il GIP Visione il materiale della difesa di Foti prova le accuse andiamo andiamo sulla stampa Unione Europea il Maxi Piano Verde 35 miliardi per industrie sostenibili Gentiloni apre alla revisione del patto di stabilità serviva per la crisi domani a Bruxelles Ursula von der Leyen presente il Green Deal europeo e sempre dagli esteri scandalo doping Mosca espulsa dallo sport internazionale per quattro anni e mentre dall'altro lato un'inchiesta negli USA sul network italo-russo imbarazza la Lega nella fotonotizia la Finlandia si arriva alla Premier si affida alla Premier più giovane del pianeta mentre leggiamo anche dagli dagli interni la Morgese promette pene più severe per gli spacciatori andiamo avanti sul tempo il quotidiano romano ferme l'ambulanza di Roma clamoroso negli ospedali della capitale soccorsi difficili ieri perché mancavano le barelle sequestrate dai pronto soccorso privi di posti letto almeno 60 automezzi bloccati in fila davanti ai nosocomi in attesa della restituzione della lettiga nella fotonotizia l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi Renzi apre la stagione dei saldi ma si sconto a chi passa con Italia Viva ovviamente l'imperdibile vignetta di Oscio e i primi dieci parlamentari che chiameranno in regalo una coperta di Lana Merinos sembra fare una televendita Renzi per accaparrarsi militanti leggiamo l'incubo polvere bianca al Corriere ma anche un'aggressione Roma Nord un altro autista dell'Atac preso a botte dai baby bulli andiamo avanti sul secolo di Francesco Sorace il grande e costoso fratello intercettazioni sempre più care paghiamo noi anche quando non sono servite vedi mafia capitale e appunto come dice il secolo intercettazioni che ormai ci portano a una condizione di grande fratello di Orwell 1984 fratelli d'Italia in primo piano in piazza Bruxelles messe un pacco tedesco e ancora maggioranza spudorata stanziafondi per il PC regionali Emilia Romagna sui social vince Borgonzoni ma i due secondo i sondaggi sono testa a testa il secolo XIX si allo stato dentro l'Ilva e oggi scende in piazza la protesta dei lavoratori a Roma migliaia di operai anche di altre aziende a centro di vertenze il ministro Patuanelli conferma l'ingresso nel gruppo siderurgico intanto la più giovane al mondo premiera 34 anni una lezione di modernità arriva dalla Finlandia dove a quanto pare è un merito essere giovani nella fotonotizia un terminal innovativo così così vado lanciare la sfida ai traffici nel Mediterraneo un piano di aiuti per riconvertire in chiave green le aziende dell'Unione Europea von der Leyen pronti 35 miliardi appunto il piano ecosostenibile dell'Unione Europea niente olimpiadi e mondiali doping e dati falsi la Russia esclusa per quattro anni da tutto lo sport andiamo sull'avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica indecenti evasioni la lezione del presidente su un buco da 120 miliardi conte e verifica di governo a gennaio il richiamo di Mattarella chi non paga le tasse sfrutta gli altri nodo culturale caos sulla manovra mutano ancora le imposte e Fico protesta per i tempi stretti intanto gli esuberi conte cala il tris di partecipate per salvare l'ilva dopo i ricatti a cui sono sottostati da parte di Anselo Ormitta il terremoto in Toscana paura e danni alle chiese per le scosse di domenica notte nessun ferito ma 300 sfollati edifici inagibili a Barberino e Scarperia mentre ricordiamo la terra è tornata a tremare anche nell'Aquilano giochi proibiti a Mosca squalificata per doping la OADA esclude la Russia per quattro anni da Olimpiadi e mondiali e ora andiamo sullo sport sulla gazzetta a leggere appunto le notizie principali che caratterizzano in particolare il calcio sulle prime pagine nel taglio alto c'è Ibra Imovic Ibra ha scelto il Milan quasi fatto per il grande colpo mentre nella fotonotizia inevitabile doping Russia a quattro anni fuori dagli Olimpiadi verdetto A da Tokyo 2020 atleti senza bandiera infatti potranno comunque partecipare gli atleti russi qualificati agli Olimpiadi ma ora torniamo su una abruzzese Verratti ci guarda stop ai razzisti metteteli dentro ha detto il regista del calcio italiano così come lo ha definito la gazzetta dello sport nella fotonotizia però vediamo Conte con i suoi campioni all'assalto per la partita di Champions Inter-Barcellona Messi a casa e Bolgia a San Siro ottavi sicuri con la vittoria Conte non voglio rimpianti e convoca tifosi aiutateci e intanto il Napoli Ancelotti pass al passo da Dio Gattuso è pronto con un pareggio contro il Genk qualificato ma De Laurentiis potrebbe cambiare lo stesso la festa bianconera Agnelli ricarica Sarri vinceremo insieme il tecnico Juve lo scudetto un obbligo sono tante le aspettative nei confronti dei bianconeri Corriere dello sport il ribaltone una clamorosa decisione scuote il Napoli dopo il Genk Ancelotti in uscita ed è pronto Gattuso li vedete a confronto in queste foto stasera la sfida per l'accesso agli ottavi di Champions alle 7.5 e domani il probabile cambio della punta anche su Ibra Zlatan duello segreto tra Milan e Napoli quindi vediamo che per il Corriere non è sicuramente al Milan ma potrebbe andare anche al Napoli Conte Inter non voglio rimpianti alle 21 con il Barcellona senza Messi perché il Barcellona è già qualificato i 90 minuti decisivi per il passaggio agli ottavi San Siro da record Conte mi aspetto energia positiva Lautaro e Laukaku i più attesi emergenza Juve arriva Rakitic domani Bianconeri all'Everkusen ma tiene banco il mercato e a Sarri serve un centrocampista vediamo qui Putin doping stop di 4 anni per la Russia come una guerra fredda andiamo su tutto sport BB BC per Sarri i senatori scendono in campo per compattare la Juve dopo il capo dell'Olimpico Barzagli si unisce a Buffon Bonucci e Chiellini per stringere con la squadra un patto di ferro tutti al fianco del tecnico nel taglio alto Messi assist Inter Napoli Cenk e poi Gattuso Barca senza pallone d'oro in 72 mila San Siro per spingere Nerazzurri agli ottavi Champions incasso record 7,8 milioni Capoline Ancelotti esonero o dimissioni Zaza Rebus Toro il riscatto è al veleno esultanza polemica e futuro in bilico ma vediamo anche la bizzarra questione dell'Iran l'Iran scende in piazza per stramaccioni divorzio dal Esteglal fra le proteste nel taglio basso doping di Stato 4 anni di squalifica per la Russia niente giochi e mondiali di calcio mentre qui vediamo un editoriale di Feltri Fiorentina e Montella è ora di decidere e con queste notizie sportive possiamo concludere la prima parte della nostra rassegna stampa adesso le previsioni meteo e subito dopo torneremo in studio per approfondire tutta la cronaca abruzzese a tra poco di nuovo in studio con la rassegna stampa di questo martedì 10 dicembre seconda parte della rassegna tutta dedicata all'Abruzzo e allora andiamo subito sul centro ormai è caos i pedaggi vanno sospesi a proposito appunto della 14 l'appello di D'Alessandro di Tagliaviva e dei parlamentari 5 Stelle ieri sera altri chilometri di coda la CNA situazione drammatica nella foto notizia vedete appunto i tratti interessati nella mappa il viadotto uno degli otto sequestrati agenzia per l'informatica parla liris in un mese di commissario risparmiati 30 milioni nel taglio basso taglio dei parlamentari Pagano dice no il coordinatore di Forza Italia il senatore Bruzzese tra i promotori del referendum contro la riforma populista e demagogica caso Gatti la Lega non ci sta chiesta la verifica a Marsilio Deramo impone le regole dettiamo noi tempi e priorità Slit la deribela sul bilancio ma l'assessore di Fratelli d'Italia la riproporrà la riproporrà oggi e Mascitelli resta al suo posto e allora vediamo la posizione della Lega su questo caos su questo caso nella nostra intervista è una forma di turismo che forse per noi può essere ancora diciamo ancora da scoprire ma che a livello di Nord Europa invece è molto molto sviluppato cioè questo turismo particolare che ha contatto con la natura con i luoghi particolari quindi dove ecco il turista va alla ricerca del piccolo borgo delle piccole oasi ambientali di quegli angoli che il grande turismo la grande distribuzione turistica non ti fa vedere e quindi noi dobbiamo attrezzarci per recepire questa forma di turismo sappiamo che a livello nazionale siamo circa al 10% in più di aumento di presenze stiamo parlando di circa 3-8 milioni di turisti che si muovono in plein air significa 2 miliardi e mezzo a livello economico quindi diciamo che l'Abruzzo si vuole attrezzare in questo alcune fasce della popolazione soprattutto gli anziani over 65 stanno subendo sempre di più dei reati soprattutto le truffe abbiamo visto anche dei dati la regione Abruzzo è la terza per il numero di reati consumati nei confronti degli anziani quindi riteniamo che poiché la normativa nazionale presenta qualche vulnus vogliamo integrare questa copertura a garanzia della sicurezza e della solidarietà nei confronti delle fasce più deboli abbiamo sì impegnato quantomeno la Lega ritiene che bisogna metterci un milione di euro per fare questa tutela che consiste in alcune iniziative in particolare una sull'indennizzo per chi appunto subisce il reato di truffa ma anche una serie di iniziative che andremo a finanziare per sensibilizzare informare i cittadini affinché possano provenire certi tipi di reati quindi incentiveremo il protocollo inteso tra comune e forze dell'ordine anche per controlli sul territorio soprattutto in quelle zone più isolate che sono quelle dell'entroterra abruzzese abbiamo ascoltato gli esponenti leghisti ma ovviamente non era il servizio sul caso Gatti ma sulla questione del turismo l'intervista sul caso Gatti magari ve la riproporremo in seguito ma ora andiamo avanti con la nostra rassegna stampa perché la regione ha presentato il documento di economia e finanza il PD boccia la giunta su trasporti e sanità giudizio negativo sul documento di economia e finanza regionale bloccherà l'Abruzzo per dieci anni allora ascoltiamo anche il centro sinistra nella nostra intervista è un documento deludente non c'è scritto nulla in realtà fermerà la regione Abruzzo per dieci anni perché questo documento doveva essere quello più importante di questa legislatura e a maggior ragione per il governo regionale insediato sia a febbraio a parte il riconoscimento del lavoro e degli interventi previsti con e del masterplan non c'è proprio nulla anzi vengono cancellati i nuovi ospedali viene cancellata anche la stessa parola cultura e anche su altre questioni molto importanti nel rapporto tra aree interne e costiero nella questione molto rilevante della viabilità non c'è nulla noi portammo dichiarammo di portare poi siamo riusciti effettivamente a portare a casa quasi 60 milioni di euro per le strade provinciali loro scrivono senza risorse faremo un'agenzia di manutenzione delle strade provinciali davvero è molto deludente perché con questo documento economico e finanziario la regione rischia di pagare il prezzo anche per l'intera prossima legislatura che non trovandosi alcun intervento in eredità come noi abbiamo fatto per loro evidentemente dovranno riprogrammare da zero ma noi chiediamo che il governo regionale dia un indirizzo questo documento è vuoto perché manca completamente di qualsiasi indirizzo politico è stato consegnato in modo burocratico agli uffici e hanno visto il documento economico e finanziario sostanzialmente come un documento da trattare burocraticamente come a dire prima ce lo loviamo di torno e meglio è comprimeranno gli spazi della discussione hanno già detto che ci daranno appena 4 giorni per discutere sia del DEF che del bilancio ma soprattutto è privo di qualsiasi elemento utile che disegni e dia una visione alla Bruzzo chiaramente sono arrivati talmente in ritardo con il documento economico e finanziario che è il primo documento contabile che non possono procedere con il secondo credo che in queste ore se hanno trovato un accordo all'interno della maggioranza procederanno all'approvazione ma sostanzialmente significa comprimere la discussione in Regione Abruzzo per il bilancio in appena 4 giorni tant'è che non hanno discusso né con le parti sociali né con i portatori di interesse men che meno con il Consiglio regionale e io credo che neanche la maggioranza sia a conoscenza dei documenti di bilancio torniamo subito sul centro presentate tre proposte di legge un milione per proteggere gli anziani in stoppa le truffe scende in campo la Lega con Quaresimale e Montepara lancia la norma per il turismo itinerante la questione che abbiamo ascoltato prima e a proposito di anziani Bettinari propone il garante della terza età il 5 Stelle non si fa sorpassare dal carroccio sua l'idea per tutelare i meno giovani che costa 30 mila euro e allora abbiamo ascoltato il centro-sinistra abbiamo ascoltato il centro-destra diamo anche voce al Movimento 5 Stelle per bocca di Domenico Bettinari sì siamo partiti dai dati nel 2018 al primo gennaio del 2018 in Abruzzo si registravano 101 mila ultraottantenni a fronte dei 47 mila del 1991 ultracentenari al 2018 418 a fronte degli 90 del 1991 quindi c'è un problema serio la popolazione invecchia maggiormente in Abruzzo e abbiamo il dovere di intervenire con questa figura del garante garante degli anziani una figura un'autorità indipendente di regione Abruzzo che vada a tutelare a 360 gradi tutti i diritti degli anziani diritto alla salute diritti sociali relazioni e soprattutto considerare l'anziano una risorsa per la trasmissione dei saperi alle nuove generazioni non come un peso di cui disfarsene ecco questa figura vuole quindi tutelare i diritti quante volte abbiamo sentito anziani lasciati soli o anziani abbandonati all'interno di strutture sanitarie lager ecco lì può intervenire prepotentemente il garante segnalando i fatti all'autorità giudiziaria ma prevenendo che accadano queste situazioni il garante interverrà per compilare delle domande aiutare i cittadini ad accedere ai patronati ai servizi sociali ai servizi sanitari è la vera figura che manca perché anziani divenderemo tutti e problemi ce li avremo tutti quindi che Regione Abruzzo si faccia carico di questi problemi con la figura del garante al quale si possono rivolgere non solo cittadini ma anche associazioni organizzate perché abbiamo tante associazioni a difesa degli anziani che purtroppo rimangono all'esterno delle istituzioni e il garante può essere il vero raccordo il punto dove queste associazioni possono andare segnalare i fatti e risolverli andiamo avanti con la nostra rassegna stampa la cronaca giudiziaria scontro tra gli investigatori per il caso Rigopiano le carte che innescano i veleni in undici pagine l'ex capo della mobile di Pescara Muriana cerca di delegittimare i carabinieri forestali che hanno indagato che ora sono accusati di falso ideologico e falso materiale tetti di spesa cliniche solo prescrizione per Baraldi Tribunale di Pescara ha rigettato la richiesta di assoluzione presentata dai legali dell'ex subcommissario alla sanità andiamo avanti sulla pagina di Pescara la lotta al degrado proprietari dei cani linea dura ecco gli sceriffi contro chi sporca l'amministrazione comunale si affida alle associazioni animaliste per controllare strade e parchi previste sanzioni di 103 euro a chi non raccoglie gli escrementi dei propri amici a quattro zampe intanto Pignoli dell'UDC pescarese nuovo pronto soccorso l'ASL ci faccia sapere quando aprirà andiamo avanti sempre a Pescara la nuova Lega Navale avrà uffici e palestra approvato il progetto ma vediamo anche Fratelli d'Italia elite tra Cremonese e Rapposelli resa dei conti tra i due in consiglio il partito si schiera in difesa dell'assessore Cremonese andiamo avanti l'ex sindaco Carlo Pace la famiglia risarcita per la morte la compagnia assicuratrice dell'automobilista che provocò l'incidente nel 2017 ha pagato i danni il conducente ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato oggi è la decisione del giudice è morto a 52 anni il commercialista pescarese Cicconi e intanto detenuti papà in campo sfida con i figli a pallone l'iniziativa almeno affinché i detenuti possano rincontrare i propri figli la festa per l'anniversario d'Orfanotrovio istituto agrario 160 anni del cupari di Alanno ma andiamo a Montesilvano allagamenti e allarme in città via Puggini e ancora senza fogne vedete la situazione nella fotonotizia urgono interventi in via dei Gasperi e zona Pineta 13 famiglie residenti nella traversa di via Vestina hanno vinto la causa contro il comune ma i lavori non sono mai cominciati andiamo avanti armati di martello svaliggiano sala giochi a Francavilla quattro ladri sfondano la porta e si impossessano di banconote e monete e poi fuggono in auto perché disturbati da un passante andiamo avanti a Chieti concorso per infermieri si fa a Pesaro oltre 7.800 candidati l'azienda sanitaria prende in affitto il palasport nelle Marche per la preselezione dell'8 gennaio intanto in ospedale oncologia albero di Natale con gli addobbi realizzati dai pazienti no al taglio dei medici del 118 il presidente della provincia pupillo bisogna tutelare anche le aree interne a Chieti spruzza lo spre il peperoncino studente di 15 anni finisce nei guai l'episodio nei bagni del Masci durante l'assemblea d'istituto la preside telefona a Carabinieri il 118 l'autore della bravata verrà denunciato per procurato allarme adesso rischia anche la sospensione dallo scientifico di Chieti a Teramo nuovo ospedale offerte da tre gruppi di Giosia difendiamo i nostri reparti e pensiamo a un presidio moderno non possiamo rischiare di perdere 82 milioni teatro romano in 23 in aula l'ultimo via libera convocato il consiglio comunale sono disponibili 5 milioni e mezzo i reperti saranno protetti da una struttura leggera andiamo all'Aquila nel capoluogo schiave cinesi nella casa del sesso un giro d'affari con 300 clienti le prenotazioni per fissare appuntamenti in via Patini avvenivano al telefono tariffe da 50 euro in su 5 denunce dopo l'irruzione dell'anticrimine previsti gli interrogatori dei frequentatori ovviamente l'appello è sempre a quello a non finanziare questo mercato dello sfruttamento arrestato l'operaio che ha ucciso padre e figlio la procura è stato omicidio stradale l'uomo è piantonato nel reparto di ortopedia dell'ospedale dopo l'incidente stradale avvenuto a Sulmona andiamo prima di leggere lo sport sul messaggero Abruzzo supernomine bilancio la Lega ancora ad attacco è urgente una verifica disertata la riunione indetta da sospiri ma rientra il boicottaggio del consiglio Febbo segnala la criticità rinviata all'approvazione giunta Mascitelli salta la revoga il PD trasporti e sanità manovra a vuoto abbiamo ascoltato prima le parole di Paolucci andiamo ora su Pescara già in fuga la bebiladra fermata vedete qui nelle fotonotizie le immagini tratte dall'impianto di videosorveglianza è irreperibile la rom di 13 anni affidata a una casa famiglia dopo essere stata bloccata dal 113 insieme a una complice nel weekend colpi in serie negli appartamenti con semplici lastrene di plastica riescono a forzare anche le porte blindate Sanitopoli prescrizione per la Baraldi e i tecnici dell'agenzia ma leggiamo il taglio basso investì l'ex sindaco Carlo Pace e maxi risarcimento alla famiglia andiamo Polizia Arma lo scontro arriva ai vertici ovviamente parliamo del caso Rigopiano il dipartimento di polizia chiede una relazione sull'inchiesta a Quater massima attenzione anche dalle alte gerarchie dei carabinieri carabinieri che avrebbero appunto falsificato degli atti del processo riguardo a proposito del quale appunto almeno a detta dell'ex comandante della mobile Muriana andiamo avanti con la nostra rassegna stampa su un'altra vertenza molto importante quella della OMA oggi l'accordo per la cassa integrazione cauto ottimismo per il futuro della OMA la continuità aziendale nei prossimi tre mesi decisiva per l'arrivo dei nuovi acquirenti dopo il fallimento dell'azienda all'Aquila città come il grande fratello nasce la videosorveglianza smart approvato lo studio di fattibilità da 4,1 milioni telecamere per monumenti traffico emergenze una sala operativa controllerà tutto il sistema ecco tutte le zone interessate dal maxiprogetto intanto telecamere intelligenti che sono già utilizzate a Pescara tessera sanitaria per conferire rifiuti inaugurate le due isole ecologiche e tecnologiche al San Domenico al Torrone per quanto riguarda invece il diritto di Barisciano l'operaio è sotto torchio ricordiamo il tragico femminicidio l'ennesimo in Abruzzo ma andiamo avanti a Chieti dal megaparcheggio al centro rinascerà lo storico tracciato gara per affidare l'intervento lungo la risalita di collegamento fra Moricorvo e Cremonesi andiamo avanti picchioli assistenti sociali a processo protagonista dell'aggressione un uomo di 43 anni doveva vedere le figlie in un incontro protetto dentro l'assessorato le vittime quel giorno vennero colpite pure a terra con calci e pugni l'accusa è di resistenza pubblico ufficiale e di lesioni è successo a Lanciano una notizia invece sull'ispopolamento arriva dai dati istat siamo a vasto spopolamento dati impietosi dell'istat su dieci comuni superano i mille residenti solo dieci comuni superano i mille residenti perdono abitanti anche le città più grandi ovviamente il fenomeno ha un'incidenza maggiore nelle aree interne andiamo a Terramo parcheggi proroghe alla Tercop il deputato Berardini in procura il parlamentare del 5 Stelle integra l'esposto contro i continui rinvii voluti dal municipio in ballo la partita della gestione della sosta in attesa della diorganizzazione complessiva SOS furti ladri anche in ospedale forzati otto armadietti negli spogliatoi di rianimazione e otorino visitata pure l'abitazione dell'ottico la mattina non ha trovato più i 300 euro nel portafogli casi di cronaca ma andiamo sulla questione viabilità a 14 sequestri e traffico caos sulla statale quattro sindaco insieme quattro sindaci insieme basta disagi un errore di battitura ovviamente in Napol il sindaco di Roseto dove l'ingresso autostradale è stato chiuso prima dello sport andiamo sulla città il quotidiano di Teramo un milione per indennizzare gli anziani truffati presentato il progetto di legge della Lega per stimolare la denuncia dei furti subiti e per sensibilizzare le vittime e come abbiamo visto l'accusa del PD l'Abruzzo rischia di stare fermo per dieci anni dopo la presentazione del documento di economia e finanza in regione l'agenzia informatica e committenza torna operativa l'assessore Guido Quintino Liris presenta i risultati del commissariamento dell'ARIC andiamo avanti a Teramo il teatro romano progetto al buio e al gelo fissata in un consiglio comunale all'aperto per il 23 dicembre l'approvazione del progetto definitivo esecutivo e gli studenti chiedono più chilometri alla regione dopo la manifestazione per i bus verso l'università in piazza Garibaldi Ludu promette battaglia all'emiciclo e a proposito e a proposito di studenti l'unité e Cilab leader abruzzesi per gli start-upper innovazione e imprenditorialità Regworth vince il premio start-up organizzato da PNI Cube e allora direi che siamo in dirittura d'arrivo possiamo leggere lo sport a ripartire dal centro andiamo subito su quello che riguarda la nostra regione a partire dalla serie B Zauri al Bivio Mercato Pescara affollato e l'ora delle scelte Rosa extra large con 30 giocatori il tecnico valuta il futuro Entella su Brunori del grosso pedinato da Triestina e Venezia anche Bruno è finito ai margini Teramo alla finestra Cisco di Grazia e Ingelson ai saluti la primavera i baby biancazzurri sorridono la squadra di Regottagli e batti il Bologna e tornerà a respirare grazie ai gol di Masella Belegoni e Pavone e Brunori si fa male alla caviglia colonnello firma per Lake Atene il Pilon dice no al Livorno andiamo sulla serie C il Teramo Balbetta due gare in casa per tornare a correre il Diavolo in flessione nell'ultimo mese scivolato al decimo posto il Bonolis sono in arrivo Catania e Catanzaro per ripartire la palla a volo di serie A2 sieco la sentenza Simoni e Marx nelle trasferte a Santa Croce e la serie D il notaresco va su Gomis Pineto torna a torna Marianeschi la capolista sul portiere exteramo per sostituire Ginestra l'alternativa è Feola a vasto il direttore sportivo d'Ottavio risponde per le rime alle lamentele del tecnico Amelia in eccellenza paterno scatena e divorzio la torrese tercera Criscolo l'agli al Sulmona De Angelis all'Aquila in promozione il Mutignago prende Ndiaye a Silvi incontro dirigenti arbitri leggiamo anche le notizie sportive del messaggero Pescara Mercato si punta su Citro a Frosinone per tornare a vincere dopo tre partite d'astinenza la punta e in pole si parlerà pure di giocatori lo storico asse con i ciociari potrebbe rinsaldarsi a gennaio e mentre per quanto riguarda la primavera il Delfino torna alla vittoria e Mammarella è il portiere più forte del mondo domani a Chieti la presentazione del libro di Orlando D'Angelo e la serie C Terramo gli ostacoli Catania e Cananzaro due sfide casalinghe che il diavolo proverà a sfruttare per fare punti entro fine anno mercato arriverà un terzino ma la società si muoverà per trovare un buon attaccante la serie D Avezzano aria tesa vincere o esonero bocche cucite ma il presidente Paris aspetta Fuggi sempre in serie D vastese brutta sconfitta ma mancavano tutti i big mentre per quanto riguarda la capolista notaresco super tre in poll per il dopo Ginestra Sieco Rebus Max attesa per Simoni per quanto riguarda la pallavolo la squadra di Ortona al top nonostante due assenze pesanti il capitano però potrebbe rientrare già con il Paymar Calci ma anche il basket Sharks Pieric ci aspetta Ferrara dobbiamo vincere inserito Jones giocatore di talento e grande Carisma e ancora la serie D leggiamo prima il Giulianova che cerca il riscatto a Pineto nel derby abruzzese e il Chieti punta Banegas in uscita l'attaccante Traini Coppa Italia Pineto non può sbagliare contro il Tolentino e leggiamo allora anche lo sport della città che avrà sicuramente in apertura il Teramo la squadra della propria città e così è un presente troppo simile a ieri il titolo di Jacopo Forcella ai confini della zona playoff ma è battuta una squadra che la precede in classifica il Teramo attuale sta per chiudere l'andata senza sussulti Lions Teramo volano anche le squadre giovanili per quanto riguarda la palla a mano nel weekend raccolti importanti successi sia in campo maschile che in campo femminile il basket ottima globo Giulianova domata Ancona è spugnato il pala Rossini dopo la rimonta conclusiva i giallorossi di Ciocca salgono a 10 punti per quanto riguarda il calcio a 5 la SportsCenter Selano ne fa 6 alla Lisciani Calcio a 5 ma leggiamo anche la palla a volo perché il Blue Italy Pineto il derby vale il primato lo scontro abruzzese con Paglieta senza storia 3 a 0 la squadra di Pasquali che va così al primo posto della classifica è sempre la palla a volo la futura volley Teramo cade invece 3 a 0 a Giulianova serata da dimenticare la sconfitta fa perdere alla formazione di Arizza il contatto con la zona playoff che sembrava davvero a portata di mano e con la palla a volo possiamo concludere la rassegna stampa di questo martedì 10 dicembre io vi ricordo che l'informazione torna alle ore 14 dici con il TG6 vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata grazie a tutti